Ben trovati, siamo con il presidente dell'Associazione Albergatori Gaetano Sorge per fare un primo bilancio sui flussi turistici di questa stagione che ormai sta per andare in archivio. Presidente, come è andata? Oddio, ti dirò che prima della stagione ero abbastanza pessimista, eravamo tutti abbastanza pessimisti perché la crisi economica era ed è tuttora molto forte, ha ridotto la capacità di spesa degli italiani e allora avevamo in previsione una stagione veramente dura. Ed era cominciato in effetti in maniera molto timida questa stagione turistica, un po' per il maltempo, un po' per la ridotta capacità di spesa degli italiani. Poi però durante il corso della stagione devo dire che la situazione è migliorata, qualche segnale timido si era avuto anche in maggio-giugno con l'arrivo insperato di un certo numero di stranieri inconsueto, per lo meno negli ultimi anni. Poi da luglio e poi ancora adesso in agosto si è avuto un ritorno anche degli italiani, cioè come una rinnovata fiducia e una voglia di tornare in vacanza, per cui alla fine devo dire che quella che si prevedeva una stagione molto difficile si è risolta invece in una stagione sostanzialmente soddisfacente. Non voglio dire che sia stata un'ottima stagione o una buona stagione, ma insomma una stagione che non ci aspettavamo. Presidente, come aveva già annunciato, sono cambiate le modalità di fare vacanza degli italiani. Molti di coloro che ci stanno seguendo hanno dovuto per la crisi economica rinunciare proprio alla meritata vacanza. E sempre di più gli italiani scelgono vacanze, mordi e fuggi. Può confermarci questo? Sicuramente, i periodi sono accorciati, ma questo è un trend che già si notava anche dagli ultimi anni. Insomma non c'è più la vacanza di 10-15 giorni, si è arrivato in una settimana, adesso 3-4 giorni, addirittura 2 giorni, un giorno. E si cerca di fare anche bed and breakfast, cioè camere prima colazione. Noi siamo andati incontro all'albergatore, siamo andati incontro all'esigenza dei turisti, per cui non abbiamo assolutamente ed esclusivamente proposto la pensione completa, ma anche il bed and breakfast, proprio per dare la possibilità alle persone di risparmiare qualcosa. Movida Fracassona, hanno un po' titolato tutti i quotidiani in questo periodo estivo dell'estate 2013. Cosa è possibile fare affinché si possa coniugare l'esigenza delle vacanze dei più giovani con chi invece magari ha una famiglia o magari è anziano e comunque vuole venire a San Benedetto? Guarda, sicuramente la Movida va fatta nei locali attrezzati. Non bisogna parlare di Movida e confonderlo con quello che è una sorta di alcolismo di massa fatto per strada. La Movida va fatta nei locali in cui la gente si può ritrovare, può fare musica, può bere tranquillamente, senza accedere. Ma non è ammissibile che poi nel centro della città e in altre vie cittadine centinaia di persone bevano e facciano dei disordini notturni rendendo impossibile la vita ai cittadini. Insomma, questa è un'altra cosa, non è Movida. Questa è proprio un'educazione, è bella e buona, chiamiamola come bisogna. Grazie dunque al Presidente dell'Asso Albergatori di San Benedetto, Gaetano Sorge, per essere stato nostro ospite. Grazie a voi.